Ciao, sono Sani Becirovic e volevo solo chiarire che le voci che sto leggendo ultimamente sul mio ritorno a Treviso sono completamente senza un fondamento. Sono ancora un giocatore della Fulgor Libertas e rimango fiducioso che in breve tempo la situazione si chiarisca, di modo che posso tornare a Forlì e continuare la mia avventura.